90 anni dalla nascita del Cardinale Martini, una ricchissima serie di iniziative, pensate proprio per il momento, ma anche di lungo respiro, come l'archivio, come l'opera Omnia, ecco, una memoria che non finisce e che è vitale, non solo per ricordare. Esattamente, io sono con voi, dice già un'esperienza viva presente e non un ricordo così anche affettuoso ma di qualcuno che ormai è nel passato e anche l'immagine che abbiamo scelto per questo evento esprime bene quello che prima di tutto noi sperimentiamo e che vogliamo, così, a cui vogliamo invitare tutti quanti. C'è il Cardinale in mezzo a una folla di persone sorridenti che lo cercano e che rassicura e fa andare avanti e ci permette di andare avanti. L'esperienza è questa quella che desideriamo per tutti, infatti non invitiamo una serie di conferenze, una serie di eventi, ma invitiamo un'esperienza di scoprire come questa figura continua e possa continuare a animarci. In modo particolare con questo focus sulla città, sulla convivenza etica, politica, questo è il tema del volume dell'Opera Omnia che viene presentato, però è anche il focus dell'insieme delle attività, come la mostra Connessioni luminose che invita a cercare in una città abitata da persone così diverse, con punti di vista diversi, con stili diversi, idee diverse, che cosa li tiene insieme? Queste connessioni e sicuramente la parola di Dio è quella che aiuta in questa direzione, il collante è quella che pone le domande profonde, che invita con Martini a non cercare delle scorciatoie e invece affrontare le difficoltà con la fiducia che le connessioni si possono trovare. Quindi i salmi in musica dell'ultimo giorno ci aiuteranno in questa direzione.